Intimidatorio. E siamo all'emergenza siccità per la regione Emilia-Romagna. Nessun rischio di razionamento dell'acqua potabile. In Emilia-Romagna non c'è rischio razionamento nell'uso dell'acqua per fini potabili. Gli interventi già in corso e quelli che saranno realizzati grazie agli oltre 8 milioni e mezzo di euro stanziati a giugno dal governo per le province di Parma e di Piacenza a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale garantiranno la risorsa idrica ai territori in difficoltà. L'assicurazione arriva da Paola Gazzolo, assessora all'ambiente regionale. Domani è convocato un nuovo incontro all'osservatorio permanente per gli usidrici del distretto Padano durante il quale saranno analizzati l'andamento delle portate del fiume Po e si farà il punto sulla situazione in ogni regione del nord Italia. La richiesta sarà di mantenere le portate a Montelago Scuro in provincia di Ferrara al di sopra dei 450 metri cubi al secondo una soglia di garanzia per l'agricoltura da Reggio Emilia fino al mare tramite prelievi effettuati dai consorzi di bonifica dal canale Emiliano Romagnolo. L'Emilia Romagna è stata la prima regione a chiedere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e l'ha ottenuta in tempi rapidi.